Al Castrum di Giulianova la Torrese va a caccia dell'immediato riscatto dopo il K.O. di domenica scorsa a Montesilvano. Si troverà però di fronte un penne più riposato ed in grande forma, reduce da sei vittorie nelle ultime otto gare. Fase iniziali del match caratterizzate da tanti scontri di gioco con l'arbitro Battistini indotto ad ammonire quattro giocatori dopo nemmeno un quarto d'ora. Primo squillo dei padroni di casa proprio al quindicesimo con un calcio di punizione di Mastrilli finito di poco a lato. Al diciassettesimo Gentile si coordina splendidamente per una conclusione dal limite sulla quale D'Amico vola a deviare in corner. Passa un minuto e Santi Rocco spreca una grande opportunità spedendo la sfera all'esterno della rete da ottima posizione. Insiste la Torrese, al ventiduesimo Mastrilli penetra in area di rigore e fa partire un diagonale che si ora il palo. Con le immagini di Flavio Forcellese passiamo alla cronaca della ripresa. Il risultato si sblocca dopo appena due minuti con una gran botta dal limite di Davide Di Nicola sulla quale D'Amico nulla può. Cento secondi più tardi Santi Rocco avrebbe la palla buona per il raddoppio ma questa volta l'estremo difensore ospite riesce a metterci una pezza. Al ventunesimo come un fulminaccio il sereno arriva il gol del pari con Cellucci che riceve controlla in area e si gira concludendo la destra di Abate che tocca la sfera senza riuscire a deviarla al di là della propria porta. Al trentunesimo ci riprova Santi Rocco ma spara alto. Sul capovolgimento di fronte invece è Cacciatore a sprecare malamente la palla del sorpasso imitato qualche decina di secondo più tardi dal compagno di reparto Cellucci. Il penne rimane in inferiorità numerica a 10 minuti dal termine per l'espulsione di Sichetti. Parità degli attori in campo ristabilita al novantesimo con un rosso diretto inflitto a Di Nicola. Persiste la parità anche nel risultato finale che vede le due compagini pareggiare per uno a uno. Mister non è stato forse il miglior penne della stagione ma è comunque arrivato un risultato molto importante sul campo di una delle prime della classe. Sì è stata una partita equilibrata lo sapevamo che la Torrese è una squadra forte, giovane ma forte quindi secondo me abbiamo fatto una grossa prestazione a livello di carattere quindi me la tengo stretta la prestazione chiaramente il punto perché comunque è un buon punto anche se noi siamo venuti qua per cercare di vincere la partita perché lo sappiamo il percorso nostro è sempre quello però comunque continuiamo con la striscia positiva che ci da tutto il giorno di andata di ritorno quindi va bene così pensiamo già a domenica che abbiamo un altro sconto diretto. Mister avevate trovato il gol del vantaggio ad inizio ripresa dopo di che non siete riusciti ad amministrare il risultato e nel finale siete apparsi forse un po' troppo stanchi. Sì era la seconda partita in tre giorni ci poteva stare un piccolo appannamento da un punto di vista fisico il penne domenica non ha giocato è stata una partita aperta una partita una bella partita interpretata bene dalla mia squadra sono veramente soddisfatto della prestazione dei ragazzi nonostante il risultato pieno non è arrivato però volevo una risposta importante oggi c'è stato ho visto la squadra che ha lottato su ogni pallone ha dato l'anima dispiace perché sull'episodio del gol probabilmente c'era fuori gioco mi dicono anche un fallo di mano ma è un episodio particolare insomma devo dare merito anche al penne che è venuta a giocarsi la sua partita con grande con grande qualità con grande cattiveria quindi è stata una partita aperta a qualsiasi risultato alla fine credo che il risultato giusto sia il pareggio noi andiamo avanti perché insomma anche vedendo gli altri risultati un campionato difficile avvincente e quindi dobbiamo già da domani pensare al cupello.